Procede in Cile, sulla cima del Serro Pachon, ai piedi delle Ande, la costruzione del Vera Rubin Observatory, il primo osservatorio terrestre dedicato a una donna, l'astronoma statunitense Vera Cooper Rubin, nota come la signora della materia oscura. Il progetto della nuova facility della LSST, Legacy Survey of Space and Time, è guidato da Stati Uniti e un consorzio internazionale di cui fa parte anche l'Italia. La conclusione dei lavori, anche se rallentati dalla pandemia, è prevista per il 2023. Il Vera Rubin Observatory scruterà tutto il cielo dell'emisfero meridionale per rispondere ad alcuni tra i più importanti quesiti dell'astrofisica. Per farlo, la facility è dotata di un telescopio da 8,4 metri e dalla più grande fotocamera digitale al mondo, con una risoluzione di circa 3,2 gigapixel. Con una profondità di 27 magnitudini, l'osservatorio terrestre sarà in grado di raccogliere fino a 20 terabyte di dati a notte, un numero 10 volte maggiore di quanto ottenuto finora dagli altri telescopi presenti sulla Terra. Per ottenere questa quantità di dati, l'osservatorio è realizzato seguendo un design ottico insolito. Il telescopio infatti possiede tre specchi asferici, uno primario da 8,4 metri, uno secondario convesso da 3,5 metri, il più grande di questo tipo mai realizzato, e un terziario da 5 metri. La luce della porzione di cielo osservata si rifletterà sulle superfici dei tre specchi e attraverserà le lenti rinfrangenti fino a raggiungere la fotocamera digitale, in grado di produrre circa mille immagini a notte, tutte a una risoluzione pazzesca, 3 miliardi e 200 milioni di pixel ciascuna. Per intenderci, se volessimo visualizzare anche solo una singola immagine a completa risoluzione, occorrerebbero 378 schermi televisivi 4K a ultra alta definizione. La survey LSST si pone quattro obiettivi, studiare l'energia e la materia oscura, fare un censimento degli oggetti del sistema solare, esplorare il cielo transiente nel visibile e creare una mappa della Via Lattea. I lavori in Cile proseguono e la camera digitale sta prendendo forma. Presto saremo in grado di scrutare il cielo notturno con occhi nuovi fino a comprenderne le componenti più misteriose.